ciao amici a chi non capita di avere bisogno di un aiutino per superare una giornata difficile sostenere un allenamento intenso mantenere la concentrazione sullo studio e sul lavoro a me succede ma credo capiti a tutti sapete quando ci si sente svuotati e non è fame non è sete è come avere le pile scariche e non sapere perché di solito cosa facciamo beh io mi bevo un caffè e squaletto si mangia uno snack peccaminoso infatti ma come dico sempre queste soluzioni fanno più male che bene il caffè che poi prendiamo con lo zucchero vero ci sveglia al momento ma quando finisce la botta iniziale ci sentiamo più stanchi di prima stessa cosa per gli snack peccaminosi che poi fanno anche male all'intestino e alla pelle allora ci beviamo un energy drink tosto guarda squaletto mi porta le red squall ancora peggio gli energy drink industriali sono pieni di zuccheri o dolcificanti ancora meno sani contengono stimolanti chimici con effetti dubbi sulla salute ma allora cosa facciamo me lo sono chiesta anch'io per anni a me il caffè piaceva ma ho dovuto smettere di berlo perché mi dava fastidio non volevo bere energy drink così ho fatto delle ricerche e ho scoperto di cosa ha bisogno il corpo per ricaricarsi di energia velocemente la soluzione migliore è un mix di aminoacidi minerali vitamine e zuccheri naturali possibilmente della frutta magari con un pizzico di carica extra a base di principi attivi vegetali sei la solita complicata ma vuoi che mi porti una farmacia in borsa no di certo ti basta portare questa una bibita peccaminosa non capisco altro che bibita peccaminosa questo è sparkling aminos della food spring l'idea è super la comodità di una bibita già pronta con dentro tutto quello che serve per stare attivi se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco cosa c'è dentro la bibita della food spring che grazie sponsorizza questo video ci sono proteine in forma di aminoacidi liberi aminos ci sono bcaa vegetali bc che bcaa è una sigla inglese che sta per branched chain amino acids cioè aminoacidi a catena ramificata sono aminoacidi che non vengono metabolizzati dal fegato ma arrivano direttamente ai muscoli dove sono necessari sono l leucina l isoleucina e l valina e nella bibita sparkling aminos della food spring sono 100 per cento di origine vegetale controllata io ci tengo poi c'è caffeina da guaranà aromi naturali della frutta e zuccheri della frutta sono tra i gusti pompelmo frutti rossi e pesca tutto bello ma a cosa ci serve questa roba adesso ve lo spiego ma intanto per seguire tutti i miei video e restare in forma in modo naturale iscrivetevi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto la bibita sparkling aminos facilita la produzione di proteine aumenta la resistenza muscolare aiuta a produrre serotonina che riduce il senso di fatica e combatte lo stress e così ci sentiamo positivi e rilassati anche sotto stress facilita il recupero post workout e aiuta a stabilizzare la glicemia importantissimo aumenta l'energia perché migliora il metabolismo degli zuccheri naturali la caffeina è naturale estratta dal frutto del guaranà e ci dà quel boost immediato senza creare cali quando finisce gli zuccheri naturali le vitamine e i minerali sostengono il corpo e il metabolismo e poi è deliziosa per voi amici la food spring fa uno sconto del 15 per cento su sparkling aminos e tutti i loro prodotti basta usare il codice sconto vignali minuscolo yt maiuscolo usatelo è convenientissimo in descrizione i link e la spiegazione passo passo ci piace ma quando la dobbiamo usare gli sportivi possono bere sparkling aminos subito prima del workout per massimizzare la crescita muscolare e l'efficienza e prima degli sforzi intensi per dare il massimo e ridurre la fatica e l'acido lattico ma non solo gli sportivi tutti abbiamo bisogno di più energia naturale durante la giornata si può bere al posto dell'ennesimo caffè o degli energy drink per migliorare la performance la concentrazione la memoria per superare i cali di energia per affrontare un esame un colloquio impegnativo nelle giornate tanto calde o dopo la sauna o dopo una corsa in cui si è sudato molto e che dire per tutte le mamme multitasking e i papà super impegnati gli ingredienti sono naturali sani e controllati è facile basta portare questa lattina sempre con sé sta benissimo nella borsetta nella borsa del computer nella borsa della palestra nello zaino zainetto condividete questo video fate conoscere questa bibita fatela provare ai vostri amici così anche loro potranno avere una ricarica sana e naturale e io vi aspetto al prossimo video nel frattempo sempre più trendi e sani con simona vignali naturalmente ciao allora cosa facciamo gli energy